Signore e signori buonasera, tra qualche istante potrete ascoltare la cantautrice Donatella Rettore in Maria Sole. Carmela regalava caronelle avvelenate, ma si dice che qualcuno si ha risolto dopo averle assaggiate. Come solo si vedrà, un uomo o donna senza età, senza sesso crescerà, per la vita una splendente valità. Andava Tifanari per favore, cerca finalmente di imparare, qui c'è scritto solo Mr Rettore e chiamami soltanto Mr Rettore. Ti voglio bene, sì, ti voglio tanto bene, ma Che mi chiede, che mi chiede, che mi chiede, che mi chiede Ma dammi una rametta che mi schioppo le vere Perché io ho te, io ho te, io ho te Per le lingue mani, perché io ho te La fama fatale, venuto nero in nostalgia che seguirà Lasciando il suo profumo, lei ti sorriderà Vettore, ciao, auguri